Una buona giornata a primo piano di martedì 5 luglio 2022. Domenico Cacopardo, su Italia Oggi, pagina 4, scrive che Nato e Stati Uniti preoccupati dalla crisi russo-ucraina hanno spostato i loro mezzi militari nel nord-est Europa, sguarnendo così il Mediterraneo e lasciando il petrolio libico in mano a Turchia e Russia. Il premier Draghi, il ministro degli esteri di Maio e quello della difesa Guerini non devono sottovalutare il pericolo. Inoltre il nostro paese possiede tre portaerei e dispone di una significativa forza di deterrenza e d'urto che può essere impiegata per mostrare le capacità militari italiane. La Repubblica, pagina 8, informa che oggi il premier Mario Draghi andrà in Turchia per incontrare Erdogan e trattare sulle forniture di gas e sul grano ucraino. Alla missione parteciperanno anche alcuni ministri, tra cui il titolare della difesa Lorenzo Guerini, che avrà un ruolo cruciale per affrontare il nodo dei giacimenti di gas Enia-Cipro e rafforzare le relazioni nel settore dell'industria bellica. Notizia del giorno, sarebbero almeno 13 gli escursionisti ancora dispersi sulla marmolada in seguito al crollo di un seracco di ghiaccio tra Punta Rocca e Punta Penia. Sette invece le vittime accertate, ma secondo i soccorritori il numero potrebbe crescere. Intanto il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato nel primo pomeriggio a Canazzei, dove è stato allestito il quartiere generale dei soccorsi. È importante per me essere qui per rendermi conto di persona di quello che è successo, dice il premier, il governo deve riflettere affinché non accada più. Politica interna, il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri sera con l'obiettivo di dichiarare lo stato di emergenza per la siccità che ha colpito prima il Nord Italia e successivamente il resto del paese. Per il momento l'emergenza riguarda Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli, Venezia, Giulia e Veneto. Stanziati 36 milioni, fondi speciali per le aziende agricole in crisi, interventi sugli acquedotti più datati e poteri decisionali straordinari fino al possibile razionamento dell'acqua potabile. Ieri doveva essere il giorno del confronto fra il premier Draghi e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ma il vertice è stato rimandato a mercoledì. di pomeriggio a causa della tragedia che ha travolto le Dolomiti. Il pericolo di una crisi di governo però è ancora vivo con i pentastellati che puntano il dito sul decreto aiuti. Intanto Matteo Salvini riunisce a Milano la segreteria allargata e lancia un avvertimento alla maggioranza. Se si va avanti con temi divisivi come DDL Zane e droga libera, la tenuta del governo è a rischio. Politica estera non si arresta all'avanzata dei russi in territorio ucraino. All'indomani della conquista di Lugansk e della caduta di Lisichansk, la città gemella di Severodonetsk, presa la settimana scorsa, il presidente russo Vladimir Putin annuncia il proseguimento dell'offensiva nel Donbass. Il prossimo obiettivo delle truppe di Putin potrebbe essere la città di Sloviansk per poi passare a Donetsk. Independence Day segnato da una nuova strage negli Stati Uniti dove un uomo ha aperto il fuoco sulla folla. L'assalto si è verificato a Highland Park, a nord di Chicago, nello stato dell'Illinois, durante la parata per la festa del 4 luglio. Alcune persone sono state coinvolte e si contano almeno 6 vittime e 31 feriti, ma il numero non è ancora definitivo. La polizia è ancora alla ricerca del killer che si è dato alla fuga. Economia e finanza. Il processo di privatizzazione di Ita Airways si va lentamente delineando. Oggi infatti si chiude la data room, poi ci saranno altri due giorni per la presentazione delle offerte vincolanti da parte di MSC Lufthansa e dell'asse Certares Air France Delta. Il tesoro poi darà il suo risponso entro due o tre settimane. Insieme con il presidente Altavilla abbiamo messo le basi per costruire una compagnia solida e profittevole che ha attirato l'interesse del mercato, ha detto Fabio Lazzarini, amministratore delegato di Ita, in un'intervista rilasciata alla stampa. Il CDA di Delfin ha preso atto dell'entrata in carica di Francesco Milleri, quale nuovo amministratore della società in sostituzione di Leonardo Del Vecchio. Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di Essilor Luxotti, che è stato altresì nominato presidente di Delfin sulla base delle indicazioni del fondatore Leonardo Del Vecchio, scomparso una settimana fa. Romolo Bardin mantiene le deleghe operative della società nel suo ruolo di AD. È tutto, grazie e buona giornata.